Oggi siamo qua su Life is Strange. Allora nello scorso episodio siamo riusciti ad entrare con il nostro ovviamente potere nell'ufficio del presidio, abbiamo anche visto che ora non ci avevamo dato un messaggio. Allora quindi hai fatto saltare il lucchetto una bomba, oh ti prego volevo solo sapere quanto speed esplosivi, ammirai il tuo incredibile disegno. Ok, allora vediamo un po', intanto accendiamo un attimo che dobbiamo vedere i documenti, cerchiamo tutto. Media 3.9 su 4 addirittura, invece l'infermeria della scuola eccetera eccetera, però anche possiamo leggere tutto. Vediamo un po' di qua. No, di qua. Presidente Wells, sono venuta a conoscenza del fatto che lo stemma della famiglia Prescott è stato rimasto dal muro della biblioteca senza alcun apparente motivo. Questo stemma storico è obbligatorio secondo i termini della donazione alla biblioteca, in caso contrario la donazione verrà revocata insieme agli altri destinate alla scuola. Oltre a questo capisco che il tragico evento abbia accaduto alla signorina Marsh le rende incerto, ma mi permetto di suggerire che cancellare il party di giovedì... Nooo, non favorisca lo spirito dinamico della Blackwell Academy. Mi aspetto che lei riconsideri la questione e giunga alla stessa ovvia conclusione. Grazie sempre, Scott. Sì, è un po' di qua. Quindi per una volta che stiamo in una cosa bella, in un party... niente... 3.7 su 4... ma è solo in questo. 2.8 C'è lei 3.9 Addirittura lui 4 su 4... vabbè, bravo scuola! Anche se ha preso una B- Io direi anche di stare attenta comunque... Ehm, la palco di bronzo... cos'è? Tiglia di mischi... Prendiamo i documenti... Una lettera... Ah, certo che buono! Che ripetizione? Ah... Evidentemente... Niente... Videocamere... Ok... Forse qui c'è qualcos'altro, ma non si può accendere un'altra luce... Allora, senti, proviamo a riaccendere queste e vediamo se ci vediamo di qua... Eh, appunto... E qua non si può vedere... Niente... Che altro ci manca? Beh, sta roba che sinceramente non mi interessa... Qua abbiamo visto... Ah, qua dentro, giusto, non l'abbiamo visto qui... Beh, qua dice quello, quello che è successo... 1.7 su 4... Bene... Infatti... Che... 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 in the dark room, Rachel in the dark room, over and over. That's it. That's fucked up. What does that mean? What does that mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Wow, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. I really trust him. I really trust him. What a hell. come si è in giù? come si è in giù? beh forse lascia i soldi o prendi i soldi ok ragazzi hanno detto che secondo loro per questa cosa di disabili i 5 mila dollari forse sono un po' troppi in effetti anche a me mi sembrano troppi ma non saprei anche Chloe ha detto che comunque gli servirebbero anche perchè a Frank gli abbiamo quasi sparato letteralmente e se c'erano ancora colpi sarebbe morto dobbiamo essere sinceri però io prenderei soldi anche quello è giusto non ci avevo pensato ok scusate il telefono e quindi vorrei un attimo vedere a fondo questa cosa quindi questa sarebbe la camera oscura ma che sarebbe questa camera oscura sinceramente io non ho capito forse è meglio che non capiamo ma che vuole eh infatti ma che vuole ecco Se chiede Hela, penso che sia una buona influenzazione di te. Un'ampish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You wanna take that risk now? It's been a cray week. We deserve a little mindless fun in the water. We're done for the night anyway, we're rich, and nobody busted us. So? Splish splash? You're right. We Hela deserve it. Splish splash. Did you actually just say Hela? I think I'm a good bad influence on you. Ok. Vediamo adesso che succede. Stiamo andando nella piscina. Comunque se mi vedete con una maglia cambiata è che sto registrando i video in giorni diversi. Però beh. Siamo un po'. Siamo nella piscina ragazzi. l'ho, l'ho, l'ho. andiamo un po' beh credo che quello delle ragazze sia più ovviamente possiamo vedere degli armaditi delle ragazze credo potremmo scoprire qualcosa andiamo un po' e scopriamo qualcosa di interessante ah tu adesso dici di questo ecco questo non si può aprire il rimedetto di Brooke eh ci ha invitato a noi che accompagniamo e ovviamente da buon amico abbiamo accettato comunque cioè di Kate di Kate di Kate di Kate di Kate 31 dicembre 2.13 vabbè ma che ci interessano molto i asciugamani e le robe lì vedo la piscina allora io però farei una cosa ossia tornerei qua e vedere anche nell'armadietto dei maschi cosa c'è magari troviamo qualcosa di interessante anche lì perché quello delle femmine non abbiamo trovato molte cose interessanti secondo me quindi vediamo in quello dei maschi quindi spero di vedere ragazzi ok ok tana so di essere ma tengo ancora a te ti amo lunga sigaretta 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 elettronica non ho visto di chi era che di chi è l'armagnetto ah di Nathan ok oh è l'armagnetto di Warren oh che carino che è ok cos'è zack ha un telefono vittoria ehi sto pensando a cose molto cattive su di te fantastico cosa indossi sono la mia collana di cristallo del telefono arrapanti cosa indossi sono degli spogliatori indossi solo una maglietta si da il mio pallone sul mio pallone di football vabbè no comment però vedete abbiamo trovato qualcosa di più interessante nello spiatoio dei maschi graffiti che c'è scritto max sinceramente cioè max è una non so che significa mi dispiace beh bene vediamo ecco chloe stavo dicendo rachel ci buttiamo come gli squadroni vediamo un pochino in giro ok comunque forse è questo eh si accendi vedi che bello ah già si è spogliato tutto quanto e vabbè non credo sia nient'altro da vedere o no ah l'acqua tra spogliatoio e io insomma beh chiede allora che possiamo tornare da chloe non credo ci sia qualcos'altro che ci siamo perse da qua credo che siamo uscite non lo so eh eh sì ma ah ecco oh 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 baby feels like a hot tub with my mustache I'm queen of the world bow tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie don't you dare come stop me hippie ok you asked for it ha 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 why look an otter in my water dun 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 you are so obvious and I still get freaked out by that movie so stop I can't even watch any of those shark shows beh almeno si divertono un pochino I'll just rewind and harpoon you otter's revenge cheater yeah you wouldn't know about that I wish Rachel was here she would totally love being in here at night wish you guys had met each other we will with all this stuff going on I'm starting to think everything is related and I want to find out why for Kate's sake she didn't deserve to die she didn't deserve to die your power is changing everything Max especially you I can already tell you're not so chicken shit anymore thanks girlfriend you know what I mean you're becoming like this force of nature more like luck of nature yeah come on my power failed trying to rescue Kate maybe I'm just stumbling back and forth in time for what reason you didn't stumble when you saved me max what if I had what if you and Kate would both be dead so it's time to start moving forward in time and we're obviously connected since without me you would have never discovered your power right anche si secondo me si you make me feel like I know what I'm doing and you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay I hope so stop being so goddamn humble you're like the smartest most talented person I've ever known more than Rachel Amber dude I'm not her groupie ok I'm sure you have Blackwell Bros all over you like Warren vabbè Warren è simpatico no che si faceva purino no he's really cool it was so sweet when you stood up to Nathan but I haven't told him about my rewind power no worries once you get over yourself you're gonna make the world back as long as you're there with me don't look so sad I'm never leaving you now I'm getting cold in here because we're yapping instead of attacking each other outer versus shark style I think I've had my pool experience for the year let's check let's call out a draw I'm gonna freeze my ass off when I get out I'm gonna do it 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 okay tipo tutte sporchi però cioè tipo tutte bagnate di chloros le rovi pure loro insomma gross I feel like we just went swimming in chlorine bay do you look cute with your hair soapy chemicals thanks you would know Merda di Bruxelles Qualcosa deve succedere Se sa Ma dove sta quel tizio Forse mi dovrà nascondere No Merda mi nascondo Andiamo Andiamo Ok Oh cavolo Ma quello è David Ma non siete più piccole Di qua No Merda Non fa vedere bene Hello Anybody there Better not try any Halloween pranks after today Serious Merda qua qua Dai Dai Non è che vieni pure qua No Non mi arrabbio Ragazzi Non so Non so C'ho l'ansia Tra i me Hello Anybody there Ok Se vede Chloe Io me ne scappo Poi Chloe Si facessero uguali Ok Eh mica tanto Ma tipo quello Ok bravi Ok Meglio che scappate prima del tempo Se no qua Capito che Max ha i poteri Però fino a un certo punto Ok Ok Infatti c'è Ok Ma che forse Io sono sicura Che quello era David Ne sono completamente sicura Ragà Sì ma infatti Comunque ci può scoprire C'è Un po' di intelligenza C'è Scusatemi Ok Scusate il telefono Ok Ci vanno a vedere direttamente Dalla mattina Ah che bello Però Tipo Chloe Si può sviare Quando vuole Tipo Sì Posterà la casa Come potrebbe uscire La mattina Però può comunque Andare quando vuole Un giro C'è Bellissimo Che Anche per chi piace Anche a me Piacerebbe anche a me Una camera gigante Con un letto gigante Ok Scattiamo Senti Che paura Che paura C'è Foto Bamb Vodi in piccola C'è Questa Since you left, basically If I could find Rachel, then pay Frank off I'm still leaving to start a whole new life Wish we could just hang out all morning like we used to Maybe we should get up I have to get back to Blackwell soon Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test I just need to get on my regular school schedule again Ok, idea di non ci inciscare e comunque alzarci Ok, I need to get dressed now I love this morning light, it's so peaceful Ah, Warren, c'è la mia del messaggio Sì, assolutamente sì Sadly, we're not kids anymore At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away Not serious Hella stupid, usually I went through a boy toy phase Among other things I can't see you with any of the guys around here Because you have a good eye That's why I was so glad Rachel came along to rescue me Oh no, una gota per Rachel, insomma, si me sa' je Beh, non si sa' je Ma la pissola vorrei vederla Frank might think twice about messing with Chloe now But if David finds out Shitstorm Nice Chloe put my pick on her phone Ah, come diciamo Per sbloccare Chloe soldi ora Avete soldi Quando? Ti scrivo prima della fine della settimana Voglio vedere Non prendermi per il sederigeno Oh, senti Chloe is so damn cute She's really trying to suss out what my vision means Piccola, dolce È un po' chiaro In caso, la polizia e i vigili del fuoco hanno risposto ad una chiamata nel campus della Black Ecco, l'academy intorno alle 1.30 di notte per riduzione e vandalismo La polizia non ha ancora dichiarato la presenza di sospettati Caso La polizia era stato un uomo nudo con una spada a Loop All Night Donuts Vicino a Packing Up Road Approssimamente alle 20.52 L'uomo non identificato è stato accusato di essere sotto l'influenza di Energy Drink e metanfetamina È stato trattenuto senza cauzione in attesa di ulteriori indagini Funerale per la studentessa della Black La funzione di terra Sì, terra, le ore 14, sabato, 18 anni, decidono martedì La famiglia chiede donazioni da mandare all'assoluto della chiesa presso la Black Wall a casa È stato richiesto un funerale per avere l'assoluto di un altro luogo Quindi non qui alla Black Wall Cioè non qui all'Archide Bay È carina Un taranno dolci A te ve lo ve ne vado Ancolotti Ah, tutto rotto a caso Proprio di prepotenza Vabbè dai ragazzi Io direi che comunque C'è qualcos'altro Io direi che comunque possiamo fermarci con questo episodio Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti